Se devi buttare nei miei bidoni, di cui mi sento responsabile, però differenzia. A parlare è il titolare del Bire, il locale alle porte del centro di Udine che da anni denuncia una situazione di degrado e abbandono di rifiuti. Una situazione che lo ha visto costretto a spostare i cassonetti di sua proprietà dall'altra parte del locale. Ma tutto ciò non ha avuto l'effetto sperato. Anzi, la presenza costante di rifiuti abbandonati stimola l'emulazione e il cumulo si ingrossa sempre di più. La gente vede che lì c'è una montagna di rifiuti, vengono anche loro a portare la loro montagna di rifiuti. Gente che viene persino da fuori in macchina, parcheggia una macchina tipo via Codroipo, poi vengono qua e l'abbandonano. Mattino presto le mie dipendenti lo vedevano. Devo dire che la NET però si è impegnata, mi è venuto incontro, abbiamo trasferito in un altro punto l'immondizia, questa la spazzano via. È certo che non possono venire ogni giorno a portare via, a correre dietro all'inciviltà. Ma il tema dei rifiuti non è il solo problema della zona, dove l'abbandono del palazzo ex regione, di proprietà dell'Istituto di Previdenza di Ingegneri e Architetti, costituisce anche un potenziale fattore di aggregazione per persone malintenzionate, soprattutto per quanto riguarda lo spaccio di droga. Lungo le scale antincendio, stanno lì, nascosti lì, devo dire che con tutti gli interventi che sono stati fatti è passata più volte la polizia, i vigili, qualcosa è stato fatto, abbiamo tamponato la nostra presenza più assidua, li stiamo addosso e poi la mattina passiamo, il giovedì mattina dopo le feste universitarie, per esempio passiamo con la gomma, con l'acqua perché ci sono deiezioni di tutti i tipi. Grazie a tutti.